ecco ha lasciato ha lasciato buckingham palace e quindi lo ha lasciato ecco al congione sono sono gli arrivi che si aspettavano e sarà l'unico cantante che canterà the candle in the wind questa famosa canzone ha ricomposto ha riadattato diciamo la canzone che aveva scritto per marina ovviamente è adattata per la principessa diana ecco la musica era stata la scusa nel 74 ecco george michael abbiamo visto eccolo alla sinistra di elton johnson sono i due cantanti rock più amati e più amici di lady diana il terzo era phil collins che ha però detto che non se la sente di venire in chiesa perché vuole mantenere privatamente privato assolutamente privato il proprio dolore dicevo che elton john questa presenza non tanto la presenza ma quanto il fatto che ton john canti è davvero il lo strappo più grande al cerimoniale ricordiamo che la carità tutti rimangono seduti elton john canta candle in the wind e tutti rimangono seduti il nostro corso e tutti che rimangono soddisfatto che le pietà di chi si usate sui per la vita si usate sui per la vita si usate sui per la nostra terra e si usate sui per i quei che le pietà di sinistra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti